Ciao Fede, quest'oggi ti devo presentare la mod più inutile di sempre Come più inutile? Di solito facciamo vedere sempre cose belle, cose utili, cose fighe No sì, quest'oggi abbiamo una mod che aggiunge degli oggetti che sono praticamente inutili in tutti i sensi possibili e immaginabili Ma ad esempio? Ad esempio abbiamo questa TNT, dato che so che ti piacciono molto le TNT Ok Ok, che guarda che cosa fa quando viene azionata Guarda, tu dimmi se questa TNT può essere utile nel mondo Cioè, praticamente attira a sé i blocchi Wow! E le persone, se ci sono persone, è finito, è il suo effetto Ti piace? Bello Stef, sì, tantissimo, molto, molto Dimmi come lo useresti nel mondo, dai, dimmi un po' Per crearti un rifugio, guarda Questo lo sistemi un pochettino e un rifugio già fatto Perché no Stef? Ottimo, ottima iniziativa Fer E ragazzi, come va? Io sono Periniki E sono Stef, che se giochiamo a Minecraft Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft in cui Stef mi mostrerà degli oggetti totalmente inutili Allora Perché già la TNT è stato un chiaro esempio No, no, la mia print è stata sbagliata Io avevo detto che questi qua sono oggetti completamente inutili Ok Ma adesso che ho visto questo oggetto ho cambiato idea Questa qua è la mod con solini più utile di sempre Perché quando avete una persona non bellissima, diciamo Avete questo oggetto per compensare Prova a indossarlo, Fer Ho già capito Prova, prova Oh Finalmente una bella fanciulla Ma guardate qua che bella ragazza che abbiamo trovato Questa però me la tengo perché mi piace Rimarrò così tutto il video Ditemi che non è la mod più Ogni volta che avete un amico o un'amica un po' bruttina su Minecraft Con la skin bruttina Gli date questo sacchetto e risolvete tutto Tipo Gonx Esatto, esatto Che ha una delle skin più brutte di sempre Quindi è perfetto Comunque, allora Partiamo da questo qua Lo vedi? Ho un secchiello in mano Sì, è un secchiello, esatto Senotti è verde Ok E dice che è pericoloso perché è altamente corrosivo Proviamo Ok, sì Potrebbe fare danni, eh Sì, infatti mi sto spostando Sto andando un po' in dire Ma Tanto altamente, Steph Proprio tantissimo Pensavo che facesse il classico mare Se c'entri dentro ti fa danno Invece sta roba sta corrollendo il mondo Però questo è utile, scusami Questa è una figata Non è vero che è inutile, Steph Pronta? Dimmi Guarda, 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 guarda Non so più dove stai andato Ah, ecco, dietro di me Aspetta Guarda No, però non ha funzionato ciò che io volevo fare Che volevi fare? Far distruggere il tetto della casa Secondo te che cosa fa? Non è la più pallida Ed è un cubo Ma non mi dice niente Ok, vado? Vai Allora, lo mettiamo qua Che succede? È uno sparaneve questo Non solo Fa la neve nella terra È il ghiaccio nell'acqua Giustamente Aspettate, Consolini Non mi piace, Steph Potrebbe essere l'oggetto migliore di sempre Quello che stiamo per fare non mi piace Allora, vado? Vai Oh mio Dio, funziona Quanti cori ti ha tolto? Due Ok Non troppissimo, però se mi ha fatto male Praticamente diventate un evil vivente È completamente inutile È completamente inutile Non capiterà mai che potrete schiacciare un altro player Però è fichissimo Numero uno Cos'è? Sembra una nuvola? No È una pietra È una pietra Ed è il tuo nuovo animaletto da compagnia E basta, non fa altro Già Rimane così Già Con il sorriso Sì, è proprio Ok Fermo Ok Però è carino anche questo Se non ti basta abbiamo un altro animaletto Questo è bellissimo Premi il pulsante Premi il pulsante Ok Eh, ma la rompo No, tasto destro Eh no, non funziona Non funziona No, non funziona Ma dovrebbe tipo fare Dovrebbe salutare Però Quasi Che è successo, Steph? Credo che se tu premi il pulsante Nel senso di salirci sopra Esplode E urla però Ah, ci devi salire sopra Sì, però mi sa che urla il logo Guarda, eh Ci sei? Fantastico Sono nel buco, vado? Hello Boom Hello Poi c'è questo qua Che dice Hidden Light Ok Ok Credo che Se io lo metto Dovremmo vederlo di notte Molto probabilmente Scusa, eh Ma dovrebbe nascondere la luce Non crearne Quindi Teoricamente No, penso che quella è una luce nascosta Forse, no? Time set Tipo qua Ti ho perso Oh Ma sta roba è utilissima È davvero una Non ti vedo Qua, 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 qua Ok È davvero una luce invisibile Te l'ho detto Guarda Questa però è una figata Questa è una figata Cioè, molte volte Magari devi decorare un posto Tu vuoi la luce? Tu vuoi la luce ma non vuoi che si vedano le torce Perché non ti piacciono come ci stanno Questa roba è utilissima Però poi abbiamo questo Ok, ok Ma è quel gioco che esiste nella realtà di cui ci sono i video che fanno Tutto il tempo Tieni, questo insieme al sacchetto Credo che sia lo starter pack perfetto per te Praticamente salti tantissimo E scendi lentissima Ah, è così Oh mio Dio È bellissimo Anche questo è strabello, scusami, eh Guardate, guardate, guardate Bello Wihuu E poi Wihuu È una figata È troppo carino questo cappello Mi piace un sacco, vedi Ciao Fede Ciao Stef, guardami Stiamo volando Sto saltando Dimmi che stai notando qualcosa No, per niente Niente? No Sicura? Sì Sicurissima? Sì, non sto notando Ora? Non lo so se è acceso qualcosa No, non si è acceso nulla, Fede Davvero non notti niente? Guarda, fissa una ca Ma Fede, ma come per notarlo? Stanno crollando le case E non te ne stai accorgendo Esatto Praticamente modifica la gravità del gioco Ah, ok E fa cadere i blocchi Che di solito non hanno gravità Quindi c'è la casa che piano piano sta crollando a pezzi Vedi? Sì Ok Sì, sì, sì È una figata Stef, cosa mi hai dato? Una spada di cactus E mi fa male Lo vedi che mi fa male? Sì, perché ti autopungi perché è tutto spina Te li tieni anche tu adesso Vabbè A cosa mi serve una spada che fa male a me e non agli altri, Stef? A cosa mi serve? Riprenditela che questa è davvero inutile, dai Ma è bellissima No, non è bellissima, è inutile Non so chi l'abbia pensata Questa è davvero geniale Teoricamente questo è un super oe, Fere Ok, sì, lo è Ma non teoricamente, ma lo è Dovrebbe avere più di un potere Allora, perché c'è con il left click Harvest within range Aspetta Ma possiamo fare un sacco di figate con questo coso, Fere Credo Eh, quali? Vedi? Se voglio ne posso fare tenendo premuto shift uno alla volta Ok Se invece premo destro e basta, faccio tutto Ok Ok E se invece premo sinistro, scava Non so cosa fa questa cosa Cosa? È il violino più piccolo del mondo Ma mi vedi tenerlo in mano? È minuscolo È minuscolo Consolini guarda in basso a destra È minuscolissimo E fa una canzone triste Io ti vedo addirittura che sta muovendo, capito? L'asticella Aspetta Come si chiama? Però sta muovendo Guarda Aspetta Tieni premuto a destra? La vedi che si muove? Ma mette depressione sta cosa Beh, questo Può venire triste Per accompagnare i momenti peggiori della giornata Può essere utile Non i migliori, i peggiori Perché davvero Sì, è tristissima È tristissima Cioè, suonami qualcosa di allegro Non una cosa così triste Ma no, ma è bello per quello Allora Questa qua Fai resmi Ti prego Ci sta Interrompi Questo lo terrò per sempre Te lo brucia E questa qua è un'arma di distruzione Te la lascio Ok Dato che a te piacciono le armi Leggi come funziona E poi me la fai vedere L'ho fatta, Steph Sei pronto? Sì Cosa? Ho messo i diamanti Ovviamente come blocco E quindi adesso lancio Dai Dai, stai scherzando Dai, non è possibile Per Puoi mettere qualsiasi blocco A tua scelta Quindi comunque Non mi puoi fare tutti i colori Ma se mi colpisci Cosa succede? Aspetta, aspetta, aspetta No, mi sto niente Aspetta, vediamo Game mode zero Prova No, non posso E fin te colpi Eh, mi sa di sì Vai, Ferre No No, no Ok, quindi non è Adesso non riesci più per davvero Liberami Stavo dicendo Non è un'arma Quindi Cioè, in realtà cosa può servire? Ma niente, ovviamente Perché ovviamente non è che moltiplica i vostri blocchi Cioè, se avete 64 Sono quelli, esatto Sparerà 64 come totale Che voi avete messo nel caricatore Quindi Non so Magari a creare un muro rapido Se sta arrivando un'invasione di zombie Ah, beh, sì Quello sì Vabbè, anche se poi è un muro molto basso Perché non è che ti fa questi muri enormi Quindi È un altro di quegli oggetti totalmente senza senso Come piacciono a noi E quindi ci sta bene questo Allora E ancora sta andando Sì, 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 sì È fighissimo E ovviamente crea accecamento Eh, ho notato Non vedo più nulla Ecco Sì, ma noi dovevamo vedere quanto era bello il fumo Invece ma non vediamo più Ci siamo andati Guardate È una figata Sì, è una smoke bomb E ovviamente, Fere C'è di altri colori Tutti i colori Tutti i colori Tutti i colori Io ovviamente ho tirato il rosa Perché so che ti piace Guarda, ne ho tirato un po' in giro Ok Tra un po' non vedrò più nulla Però adesso me lo godo Ho fatto una follia, sappilo C'è di tutti i colori, Steph È esagerato È esagerato Ho esagerato in un vero senso Guarda il mio schermo in questo momento, Fere A me l'ho lasciato qui a non vedere più nulla Esatto Bravo, Steph Bravo Carino anche questo No Non può essere vero No Cos'è? Hai presente gli occhiali che abbiamo fatto vedere nel secondo canale? Più o meno quello Ti fa vedere il mondo di Oh mio Dio, sto per vomitare Oh mio Dio, sto per vomitare Ti fa vedere il mondo al contrario Sì È impossibile È impossibile giocare così, Fere Oh mio Li devi provare per forza Dove sei? Qui Aspetta Eh, avrei difficoltà a vedermi Ti vedo, ti vedo, ti vedo Fermo, fermo Riesco a gestirmi, eh Te li lancio Oh, comunque sono uguali Anche esteticamente sono uguali agli occhiali che abbiamo noi, eh Vai Oh mamma mia Oh Ti vedo anche Ok, va in giro In effetti con quegli gli occhiali che abbiamo messo l'altra volta Non abbiamo mai provato ad andare in giro Magari Eh, però più o meno sarebbe quello Perché anche quelli ti fanno vedere sotto di te Quindi più o meno penso che l'effetto sarebbe questo, eh Fere, mi hai giocato a fare i gavettoni da piccola? Certo, anche da grande Ok Ovviamente Ti piaceva? Sì, sì Allora, mi piaceva più lanciarli che riceverli Però sì, era divertente Ok, qua riceverli ti piacerà ancora meno Te ne tiro giusto una per farti capire Dai, è cattivissima questa Si tira l'acqua, non la lava, Steph Immaginatevi nella vita reale, Steph Tira, 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 Fere Calpiscimi Immaginatevi nella vita reale Che vuoi fare lo scherzo a qualcuno E gli tira un gavettone di lava Fere, è partita la sfida Chi muore ha perso Pronta? L'importante è bruciare tutto Oh mio Dio Oh mio Dio Cavolo, cavolo Fere caduta, fere caduta La posso colpire Yes Sì, non hanno senso i gavettoni di lava Però questa mod non ha senso Sta laggando pure Abbiamo esagerato con la lava Abbiamo esagerato con la lava Come sempre tu esageri Vieni via da lì, vieni via da lì Un po' di fantasia Ti voglio con un po' di fantasia Eh, non lo so Dai You can do this Fantasia, fere Concentrati Facciamo la casa di app Non lo so Quasi Un po' più in piccolo Vogliamo noi? Esatto Come ti ci agganci? Come? Fantasia, fere Fantasia Non lo so You can do this Con la corda, fere E dov'è la corda? Ah, la corda normale di Minecraft Sì, tieni Ok Quindi, teoricamente Io faccio così Ma funziona? Faccio così Fere Però non funzionerà mai Mi vedi? Come hai fatto? Ok, adesso Creane tanti Ok E attaccati Ok Difficilissimo prenderlo Uh, ho iniziato a volare Ho iniziato Fere Fere, sto iniziando a volare Io non riesco a prenderli Steph È stra difficile Ah, ma posso anche avere controllo Di tutta sta Oh, vabbè Oh, bello Io sto facendo bungee jumping Ok, sto iniziando a volare Steph Quanti ne hai? Io al momento ne ho 5 o 6 Tipo 5, credo Mi stanno portando lontanissimo Beh, ragazzi Il video finisce così Se vi è piaciuto Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao